La fattoria agricola Piccolo Mondo di Monbaroccio sul terzo gradino del podio alla mostra mercato dell'olio Expolea. Un grande traguardo per il titolare Romano Lorenzi, freggiato dell'importante riconoscimento nazionale, a pari merito con un altro produttore marchigiano, l'azienda agricola Guerrieri di Terre Roveresche. Un riconoscimento arrivato sabato 22 aprile nella Pinacoteca San Domenico di Fano, nella sezione Fruttato Medio, nel concorso organizzato da Olea per la categoria L'Oro d'Italia. È stata veramente una grande soddisfazione perché abbiamo messo tutto l'impegno, come tutti gli anni, per poter fare un olio di grande qualità e quest'anno finalmente ci è riconosciuto a livello nazionale, insomma che abbiamo vinto il terzo premio sul Fruttato Medio con un blend di olio con tre varietà di olive, leccino, frantoio e raggiola, praticamente. E quindi ecco, questo premio sicuramente lo dedicherò a mio padre, che in primis è lui che è il conduttore dell'azienda agricola, fattoria Piccolo Mondo. È un olio chiaramente riconosciuto con, mi sembra, 92, sulla scala 92 centesimi, con settori di erba, taglio fieno, carciofi e poco mandorlato, quindi ha un'acidità praticamente 0,20, bassissima, con dei polifenoli altissimi, 612 di polifenoli. Oltre 400 etichette valutate da Olea per decretare il miglior olio d'Italia. Oltre alle marche con le sue due aziende sul podio, si sono contraddistinte nella qualità del prodotto anche Sardegna, Umbria e Puglia. Quest'ultima salita la ribalta con il primo premio assegnato all'azienda agricola Donato Conserva in provincia di Bari.